Sì, sai cos'è la cultura? Oh, la cultura, è importante pure la cultura. Sono i viaggi che hai fatto, le persone che hai incontrato, i libri che hai letto. Il cinema, il teatro, il teatro, tu sei mai stato a teatro? Sì, capo che sei stato a teatro, io sono stato a teatro. Ma che hai visto? La traviata. C'è? La traviata. In che senso? In che senso, la traviata. La traviata, oh! L'opera, l'opera della lirica. Ma, in che senso? In che senso? La traviata è, oh, la traviata, là dove ci stanno i cantanti che cantano il fatto. Ma che fatto? Canto il fatto. Chi ce ne sa? C'è tutto il tutto il caosco, vabbè? La storia. Facci ne sempre, allora, facci ne sempre. Allora, tu, tu stavi qua. E sono venuto dopo di te, sono detto come si è vestito. Vincere, vincere, vincere! Ma tu si bravi, se hai. Ma tu si ailete di Albano veramente. Ma io, io ho già chiesto con il da Albano, Albano. Ma decano che Chua Albano. Perché che escelo normalizzato. Il fatto che esce cantano? Che c'è? ma la storia della traviata la traviata e sta una femmina no sta femmina capito la femmina persa corrotta una puttana puttana però alla fine questa femmina si capito capito si scantano la storia della puttana pendente ci si strunza puttana pendente vedi che la cultura è importante Enzo la cultura ti apre gli occhi capito ti fa vedere le cose del mondo in una maniera completamente diversa ti apre lo sguardo Grazie